Le tecniche di comunicazione, e sono tante, del sindaco De Caro nella sua conferenza stampa di oggi. Non c'ho paura, io non ho paura, e adesso mi rimetto la fascia, perché io sono un uomo delle istituzioni. Cominciamo con quella che ho chiamato più volte la tecnica della verità dell'oggetto. De Caro si presenta in consiglio comunale con un faldone enorme di fogli. Questo ci riporta al solito tema di cui vi ho parlato tante volte. L'oggetto è vero, quindi per estensione deve essere vero anche ciò che l'oggetto implica, cioè il contenuto. Il punto è che non è necessariamente così. Se c'è solo l'anticamera di un sospetto sull'amministrazione comunale di Bari, sul consiglio comunale di Bari, e sul sottoscritto, allora io rinuncio alla scorta. E qui siamo di fronte alla fallaccia logica più clamorosa. Cioè l'idea è, se esiste anche un minimo sospetto sull'amministrazione comunale, allora mi tolgano la scorta. Questa fallaccia logica va sotto il nome di non sequitur, cioè non segue, nel senso che i soggetti dell'argomentazione sono differenti. Da una parte c'è l'amministrazione comunale, dall'altra il sindaco, che non sono la stessa persona. E per concludere, le lacrime. La lacrima come sinonimo dell'autenticità dimostrata. Piango e quindi è vero. Ed è ancora una volta lo stesso discorso che facevamo prima. Ho i fogli e quindi i fogli sono veri. Per concludere, siamo in presenza di tante tecniche. Ed è proprio perché siamo di fronte a tante tecniche che è necessario un sano cinismo. Poi ognuno si può fare l'opinione che vuole. Tuttavia è importante destrutturare e decodificare le tecniche che sono state utilizzate.